Musica Hola ragazzi bentornati su Space Enjiners Allora è da veramente qualche settimana che non giocavo cioè che non faccio video su Space Enjiners Allora beh probabilmente cioè me l'avete già chiesto un mucchio di volte perché non continui Space Enjiners Diciamo ragazzi che riuscire a trovare diciamo il tempo di trovare di avere il tempo io e poi tipo Scafu o qualcun altro per giocare insieme Ho visto che è stata una cosa un po' difficile quindi per diciamo evitare che non faccio video per troppo tempo Ho deciso quindi di fare un po' anche i video da solo poi se c'è che c'è Scafu o c'è qualcun altro che vorrà darmi una mano in questa partita Ovviamente sarà sempre ben accetto Quindi giusto per non stare troppo tempo senza fare nulla su Space Enjiners Oggi faccio questo gameplay da solo e poi vediamo nei prossimi giorni se continuerò da solo Oppure se mi faccio dare una mano sempre da Scafu se ha tempo da qualcun altro insomma vedremo Dunque adesso sinceramente appunto è da così tanto che è un gioco che mi so dimenticato parecchie cose Mi so pure quasi dimenticato come si gioca niente un po' di meno ragazzi Quindi ho bisogno del tempo necessario per riprendere un po' la mano con i vari comandi Allora qui abbiamo sempre 8 ore di carburante Vediamo in produzione cosa c'era perché ora appunto non mi ricordo molto Container piccolo c'è un bel po' di roba messa da parte La raffineria che fa? Raffina? La raffineria sta raffinando almeno lei è a posto Vediamo qui sotto com'è la situazione Vediamo la situazione qua Qui quanto carburante abbiamo? Quattro giorni Sta raffinando qualcosa Si sta raffinando il nickel niente di più Va bene C'è un'altra nave là che adesso se non mi sbaglio è quella che aveva portato Come è che si chiama? Bob Orishnov non mi ricordo neanche più oramai Questa nave come era ridotta non mi ricordo Quattro ore di carburante Ed è pure messa male mi ricordo Mi ricordo che aveva perso i motori Questa non fa nulla praticamente è mezza buttata qui così per niente Addirittura cacchio è successo sono caduto Ah è tutto spaccato Questa nave la smantelleremo Dunque allora vediamo un po' cosa si poteva fare Mi ricordo che con scafo si stava facendo qui insomma per portare tutta la roba su Allora un attimino ragazzi perché a me mi sembra che il gioco va un po' male Mi sembra che Non sta andando molto bene Mettiamo qualità non troppo alta Così dovrebbe essere un po' più fluido Quindi da sotto c'era la mia navicella Con me che cos'è che ho? Com'era l'inventario che neanche mi ricordo Personaggio Dunque dovrei avere le lastre di acciaio Dove sono? Non ne ho neanche una con me Allora prendiamo Dovrei No aspetta allora 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 Una cosa alla volta Potrei Ecco Volevo creare una nuova navicella in realtà Una navicella che magari smantella e salda Due in uno insomma Allora vediamo un po' ci devo riflettere Perché appunto è da tanto che non costruisco E andiamo comunque a prendere un po' di materiali Quindi diciamo che il mio obiettivo è quello di creare una nuova navicella Voglio una nuova navicella E allora G Nave piccola Come al solito mi metto sto coso Ok Allora creiamo un po' una nuova nave Mi sembro un po' Robocraft quando faccio ste cose Vediamo un po' Dovrà essere tutto sommato bella grande Vediamo un po' Così Potrei anche già cominciare a saldarla Praticamente sto costruendo una nave che mi servirà per smantellare la navicella Quella di Boris Knob Che è praticamente abbastanza inutile Però c'ha un mucchio di roba interessante Ok Cominciamo un po' a saldare questa roba Questi blocchi Salviamo tutto Ok Questa è la prima parte Dunque Poi Che altro mi serve Allora quello che devo avere è questo Saldatrice e smerigliatrice Queste due sono le cose che io voglio montarci Poi chiaramente adesso non lo so Tipo Ecco allora Vediamo un po' Tipo Questo qua chiaramente è bello grande Questo è bello grande E questa è una saldatrice Occupa tre slot Ok Allora continuiamo un pochino a creare la nostra nave Possiamo anche farla grande Tanto non deve andare a buttarsi dentro qualche buco Quanti ne ho messi? Cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Uno, due, tre, quattro, cinque Ok Quello lo togliamo Il numero Di numero Questo lo tolgo Che non mi interessa Diamo un'altra saldata Ok Ok Su con calma ce la facciamo Così Saldiamo tutto Quindi praticamente dalla parte davanti salderemo Dalla parte dietro tipo smerigliamo Chiaramente non è Non sarà proprio il massimo Come cosa Penso Boh è da provare comunque Perché non l'ho mai creata questo tipo di nave Intanto noi ci occupiamo Della base A un mio D Magari ho sbagliato i tasti Ok Intanto il mondo si salva Così 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 Salviamo pure questo Ok Quindi questa è la prima cosa Poi chiaramente ci vuole il posto del pilota Ok Numero nove Dove lo metto il posto del pilota Potrei anche metterlo qua Si potrei metterlo anche qua Vediamo un po' Cerco di dare una saldatina Dov'è il saldatore Dov'è Ok Mi servono schermo E vedo blindato Vediamo un po' Ok Vabbè questo ce lo mettiamo tra poco Allora Vediamo un po' Per l'appunto Avrà Le saldatrici E queste Mo' Vediamo Come le mettiamo Allora Le saldatrici Ci sto a capire poco e niente Che fa? Gira? Oh mio dio Ok Sta girando Non è una cosa positiva Neanche un po' Ok Allora Devo proprio Finirla un attimo Mi serviva Vetro blindato Dunque Vetro blindato Ah schermo Ehm Un momento Schermo What? Vetro blindato Perché 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 no? Sono pieno Vetro blindato Poco Dove l'ha messo? Dove l'ha messo? Ah ok L'ha messo là Ok Vetro blindato Devo almeno riuscire a farla stare ferma Dai 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 Attenzione L'energia in esaurimento Rischierà di farti male Ok Ma noi ci abbiamo quasi fatta Ok Dunque Torniamo un attimo qui A prendere salute Un attimino che riprendiamo la nostra salute La riprendiamo tutta 70% 80 90 E così sia Allora Mi serve adesso Il giroscopio Che Giustamente lui mi va a togliere a me La saldatrice Dunque Numero 7 Il giroscopio Devo assolutamente montarlo Da qualche parte Saldiamolo Mi mancano i computer Così un attimino Cerco di far star ferma la nave Così che ci posso poi lavorare con calma Allora I computer Com 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 Urca Vai piano Vai piano E il computer Ce l'abbiamo Messo Il giroscopio c'è ok poi che altro mi serve continuo a girare su se stesso allora ovviamente è normale, reattore piccolo o reattore grande se mettessi il reattore grande quanto è grande? parecchio però questo sviluppa molta corrente giustamente potrei mettere il reattore grande ovviamente ci vuole un mucchio di materiali mi sa componente costruzione, grie metallica componente reattore, computer madonna mia salviamolo pian piano insomma la costruzione della nave richiederà un bel po' di tempo ok componente costruzione grie metallica oddio computer grie computer grie e reattore computer grie computer grie componente oddio già me lo dimentico ok computer ok computer grie facciamo quante grie volevo non tante comunque computer grie componenti reattore me ne servono altri 20 allora 1 1 componente reattore che staffa componente reattore mi serve eccolo qui ok boh 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 ok allora componente reattore dov'è? eccolo qua me ne servono 19 Scusa quanti ne ha fatti Ok griglia ce l'ho Componente e reattore Mi serve poi No Dov'è 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 Componente e reattore Non così tanti Me ne servono giusto 20 E poi mi serviva Componente costruzione Dov'è Eccolo qua Ok dovremmo così poter Ah è un'altra cosa mi serve Mi serve anche un po' Di Dov'è Eccolo qua Uranio Ok Torniamo lì prima che sta Lo sapevo che passavano anche adesso Gli asteroidi Speriamo che non mi colpiscono Non si sente neanche più il rumore Della saldatrice Ok Ci siamo quasi Fatto Dai 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 mettiti qua Uranio Fatto Ok Ora devo montare i motori Vediamo un po' Intanto Dunque C'è Vabbè Sto a fare qualcosa che sarà una mezza schifezza Ragazzi ma Nick non è un bravo progettatore Ok 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 Dunque Dunque Poi Ci devo mettere i motori Numeri 4 Qua Ok Ok Avanti e indietro ce li abbiamo Su e giù Così Quindi Su e giù ce li abbiamo Avanti e indietro ce li abbiamo Manca sinistra e destra Quindi Sinistra E Destra Dov'è? 4 Ok Anche dall'altra parte Un po' complicato smuoversi Quindi Così E così Ora Buon divertimento Dice a saldare Allora Mi servono Componente Propulsore Qua pure Qua pure Poi Qua invece Solo una saldatina Componente Propulsore Pure di qua Componente Costruzione Componente Propulsore Ok Costruzione Propulsione Costruzione E costruzione Ok Ok Anche qua Anche qua Va bene Quindi costruzione Propulsione Mi so proprio perso Dove cavolo mi trovo Non mi sbrigo Non mi sbrigo sta navicella La perdo Quindi costruzione Propulsione Propulsione Componente Propulsore Componente di costruzione Mi serve Produzione Produzione Costruzione 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 Ok 10 Un altro 2 3 Ancora 2 Ok Ok Possiamo fare anche i motori Prima che perdo sta nave E se perde Ah sto a finire in regia Dai 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 14% Lavorare Fa morire prima Insomma 10% Ok Devo subito andare A curarmi Ah no Non c'è bisogno È vero Posso salire dentro La navicella Ok Recupero anche qui Insomma La salute Non ci vale molto Basta che non mi smuo Perché sennò Sennò Non la fermo più sta nave Ok Ci siamo quasi Salute a posto Via Possiamo tornare indietro A saldare il resto Ok Così almeno la nave La posso spostare Ci posso lavorare Con più tranquillità Anche qua Quest'altro motore Si siamo quasi Ok da questa parte è tutto a posto Compliciamo quest'altro lato Ok E già in teoria Dovrebbe essere un po' a posto Adesso non si dovrebbe più spostare Stemiamo pure questo Stemiamo pure questo Devo subito toglierla di qua Prima che calca asteroide La becca In pieno Fai tutta fatica sprecata Guarda un po' Li ho chiamati gli asteroidi Speriamo che non mi beccano Dai No ma figurate Non mi beccheranno mai Oddio Oddio mi sono Mi sono spaventato Si era bloccato tutto Ho detto qua Mi ha beccato Pensavo Mi ha beccato E non ci ho fatto neanche caso Ok Bon Diciamo che almeno Un pezzetto è a posto Devo trovare Dov'è il resto Della nave Ok Quindi andiamo giù Ok posso continuare Bene o male La costruzione Ok Messa qua Alzo un po' più su Bene Così la nave C'è Ferma Dunque Allora Devo mettere le saldatrici Le saldatrici Potrei anche metterne solo due Anche se a me Mi avrebbe fatto piacere Metterne di più Ma Troppo indietro Così è troppo indietro Ok Testo 2 Vediamo Ok La saldatrice Messe E nella parte Posteriore Volevo metterci Per l'appunto Anche se non è che Sia proprio Il massimo Vabbè è una mezza schifezza Di nave che sto a costruire Ma ci accontentiamo Poi magari lavorerò Poi magari lavorerò per farne una più bella Diciamo di questa navicella Vediamo un po' Quindi all'incirca è così che volevo che venisse Componente costruzione Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Ci vuole un mucco di roba Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Ok Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Anche di qua Vediamo invece per queste Che cosa mi serve Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Pure qua Ok E qua Anche qua Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Ok Diciamo che bene o male Quindi Qua con cosina Già sono riuscito a combinarla Certo non è La più bella navicella Che ci sia mai stata Ma vabbè Dopo settimane Settimane Anzi che Sono riuscito Riesco a far questo Ok Questo Componente costruzione Tubo di acciaio piccolo Tubo di acciaio piccolo Forse me ne serve anche di più Vediamo un po' Produzione Questa così Dubo di acciaio piccolo Ok Torniamo alla navicella Piano Piano Eh Ok Saldiamo il tutto Una mezza schifezza Lo so Non mi piace molto esteticamente Lo so E d'altronde ragazzi Ho deciso di riprendere A giocare Insomma A spese in genere Così Da un momento all'altro Ho detto È da tanto Che me lo chiedono E devo assolutamente Fare un qualcosa Non avendo Diciamo Diciamo un'idea Su cosa fare Ho pensato Che comunque Questa è una cosa Che dovevo fare Ovviamente Non la stiamo Completando In questo video Perché è una cosa Veramente Che tutto sommato Richiede del tempo Ok E almeno Questo è fatto Quindi Funziona Sia come smerigliatrice E sia come Saldatrice davanti Praticamente L'idea è Quella Di mettere Dei tubi Che vadano A finire Poi In 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 uno Di questi qua Insomma Di quei Sì Beh Oppure L'unica cosa Che secondo me Stona è proprio Sto reattore Messo nel mezzo Il reattore Quello che Non mi piace Più di tanto Poi è pure Grosso Vabbè Comunque Ragazzi Tanto per il momento Era in qualsiasi caso Tutto Perché non posso Non ho comunque Altro tempo Per continuare La nave Quindi poi Ci rifletto Un po' Se eventualmente Come migliorarla Intanto Entro dentro Vediamo un po' Dunque Dovrei andare Su G Saldatrice Saldatrice Smeriatrice Quindi Tipo adesso Adesso Tipo Stanno Funzionare Sta funzionare Smeriatrice Che è dietro Vedete Ecco Quindi Così tipo Posso smontare La nave E Davanti Posso Saldare Vedete Un esempio Se andiamo Un attimino Nella Navicella Di Ah già Qua c'è anche La navicella Di Boris No Che stava creando L'ultimo gameplay Mi sono dimenticato Di mettere i fari Su sta nave E non vedo niente Quindi Un esempio È tipo Che questa Danneggiata Se io vado così La posso Subito Subito Riparare Vedete Solo che Non ho Le lastre D'acciaio Con me Quindi Non ripara Tutto Riesce A riparare Solo un po' Comunque Alla fine Diciamo Che lo scopo Di questa nave È quello Di riparare E eventualmente Col di dietro Scusate la parola Col di dietro Appunto Va a Diciamo Togliere La roba Insomma Adesso Facciamo anche Un esempio Anche di questo Dai Mi giro Così Un esempio Certo Non è proprio Facilissimo E un esempio Io posso Smontare La parte Posteriore Certo Non è facile Guidare così Perché non si Non si vede niente Ma va bene Quindi un esempio Possiamo noi Andare così E smantelliamo La nave Una volta Fatta la pratica Diventa facilissimo Vedete Posso così E la facciamo E la facciamo Per benino Va bene Comunque ragazzi Intanto Spero che questo Gameplay vi sia Piaciuto E appunto Continueremo Appena posso Su Space Senshiners Voi come sempre Commentate Fatemi sapere La vostra Iscrivetevi al mio Canale Se non siete Già iscritti E se il video Vi è piaciuto Se vi va Di lasciare Un mi piace Al video Mi farebbe Tanto piacere Giustamente Se vi è piaciuto Va bene ragazzi Io vi saluto Ci becchiamo presto In altri gameplay Raga Statemi bene Ciao alla prossima Raga